Avvocato Pedersoli, si parla molto di un consolidamento del settore bancario. Secondo lei c'è possibilità di vedere ancora altre operazioni di M&A nelle banche? Credo che sia una cosa possibile, anche probabile, perché certamente le banche devono trovare il modo per rafforzarsi, però non deve essere una misura isolata, si dovrebbe anche iniziare a pensare, come molte banche stanno facendo, qual è il futuro dell'attività bancaria, quali sono gli spazi di manovra per crescere e nel contempo io credo che bisognerebbe trovare il modo per rafforzare in genere l'economia, per evitare di ritrovarsi con i problemi sul portafoglio crediti che abbiamo vissuto in questi ultimi anni e che certamente sono la base della debolezza delle banche, non solo italiane, anche mi riferisco al mercato europeo in genere per quelle europee, e che dovrebbero indurre tutti ad adottare più misure correttive. Grazie Avvocato.